Maschere, carri e volti del Carnevale Mugesano negli ultimi 40 anni e più. All'edizione numero 69, abbinata a una mostra fino al 26 marzo presso il Museo d'Arte Moderna Ugo Carà di Via Roma 9, è infatti visitabile l'esposizione fotografica Carnevale a colori dagli anni 80 ad oggi, organizzata dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Muggia e dall'Associazione delle Compagnie del Carnevale per festeggiare gli ultimi 40 anni di Carnevale con tante immagini dalla Fototeca del Comune e con le fotografie di Fabio Balbi, Franco Dreolin, Fiorella Macor e Claudio Micali. Alla fine 26 marzo trovate qui delle meravigliose foto che ricordano il Carnevale dal 1975 a oggi. All'interno di questa mostra, come sempre, come Assessore della Cultura, abbiamo promosso un'attenzione particolare ai bambini che verranno qui, vedranno la mostra ma troveranno dell'Associazione Nati per Leggere che leggerà loro dei pezzi per far capire che cos'è il Carnevale. E anche un concerto, un primo concerto per i bambini da 0 a 3 anni a cura dell'Orchestra Civica Giuseppe Verdi di Trieste il giorno sabato del Carnevale qui al mattino. E al Carnevale di Muggia è abbinato anche il concorso fotografico e video 2023 con partecipazione gratuita organizzato dall'Associazione delle Compagnie del Carnevale di Muggia, Stare Assieme per Carnevale aperto a tutti i fotografi e amanti del video, sia amatori che professionisti, senza limiti di età o nazionalità. Le fotografie devono essere inedite e gli scatti eseguiti tra il 16 e il 22 febbraio 2023 a Muggia. Il regolamento completo è presente sul sito www.carnevaldemuia.com